Ciao a tutti di questo nuovo video con il mio fantastico ragazzo che non c'è mai nei miei video non lo vedete mai? Io non ci sono mai. Allora come potete vedere da lo sfondo man mano che i video andranno avanti e vedrete che la stanza cambierà però non vi spoglieremo ancora nulla farò un room tour, lo dico in ogni video dove ho lo sfondo blu, questo diventerà il mio sfondo permanente però non lo è ancora quindi sarà molto più figo. Immotenemente ci arrangiamo con il ring su una sedia. Beh si. Già il fatto che vi è andata alla sedia non si doveva dire. Comunque non si parla della stanza allora perché non so quando uscirà questo video, se uscirà prima, dopo, durante, prima di questo video si spera. E mentre? No penso uscirà... Dopo? Prima. Prima usciranno dei video sia nel mio canale, con il suo canale, se non ci gireranno prima o dopo. Faremo una settimana sì, cioè un giorno sì, un giorno perché noi editiamo il martedì o giovedì. Io ho in via eccezionale visto che ho momentaneamente sospeso il canale ASMR. Faccio anche l'extra o sabato o domenica, vedo un po'. Però vedete che facendo appunto solo questi tipi di video non vogliamo fare il video della ristrutturazione della mia stanza ogni giorno. Cioè tutta la settimana se no dopo un po' vengono due o così. Quindi pensavo di sceglierci un giorno della settimana tipo, non so, il martedì o il giovedì e fare solo quei giorni che esce un mio video sul mio canale, un video del suo e poi ripetutamente con una rubrica fino a che finiremo finalmente, si spera. E poi nel frattempo potremmo uscire i video. Quindi potrebbe uscire che il giorno prima, avete visto la ristrutturazione, il giorno dopo questo video. O quel giorno prima questo video e il giorno dopo la ristrutturazione? Giusto. Cioè due giorni dopo, però va bene lo stesso. Procediamo con il video. E' la premessa. E' la premessa. Sto ringo mi fa diventare gli occhi, ma quando uso il ringo mi bruciano la retina. Comunque, allora, siamo qui riuniti per parlare. Siamo qua riuniti. No, ma adesso scuola. Ok. Perché poi la gente dice che offendiamo. No, infatti è brutto. Sono proprio dei capelli, però sinceramente... Non ti piacciono? No, mi piacciono. Se li sento umidi. Non so la mia sensazione. Ah. L'argomento, andiamo avanti. Vai. Comunque stavo dicendo, siamo qui riuniti appunto per fare i video. I video. Qual era l'argomento? Era quello che a me arriverà una cosa molto interessante. Ah sì, ecco. Scusatemi, ultimamente è che stiamo lavorando su questa cacchia distanza. Il video che ho visto, quello che è uscito oggi, il 7 ottobre. Ottobre. 2020. Era molto confusa, però era molto bello il video. Ragazzi sono 4-5 giorni che mi sniffo vernice, truccioli e tutto, quindi sono mezza andata. Comunque siamo persone molto stanche. Comunque, il tema di oggi. Il tema di questo video. Il pulso. Qual era? Non sono deficiente, veramente. I miei nonni sono totalmente stanchi. Che purtroppo dimentico le cose a brevissimo termine. Io mi... Ah sì, è qua, sì. Praticamente il mio ragazzo ha ordinato una cosa che gli arriverà, non si sa quando. Sperando, sperando che arrivano. Ma sì che arrivano, non fai il cazzo. Comunque, a brevamente gli arriverà una cosa elettronica. E quindi io ho deciso subito di cogliere la cosa. Aspettate che tiro su intanto una cosa che se lo va per terra. Allora, mi arriverà quindi dunque a me in regalo, ovviamente usata da lui, sperando che non sia crepata, la play, la PS4. E quindi tanto per me. Tutto sta buono. Sono contenta. Allora, prima di tutto la metterò ovviamente vicino a... Adesso non faccio spoiler, c'è la tv. E poi dovrò riprenderci la mano, quindi avrò la PS4. Quindi ragazzi preparatevi ai gameplay! Questo è l'annuncio che volevo fare da tanto tempo perché devo esserne sicura tutto il resto. Però nel caso buone funzioni, ma spero di sì. Togliamo solo la polvere all'interno e poi sì. Togliamo la polvere e la puliamo in tutto. Dopo che poi l'avrò sistemata e tutto il resto. Ovviamente farò qualche prova e poi... Volevo portare qualche gameplay, spero di Crash Bandicoot 4. Spero. Ovviamente allora... Ti arriva a novembre. Sì, tanto questo video lo vedranno a novembre, quindi... Allora, diciamo che mi piace l'idea di avere la Play. Quindi diciamo sfruttiamo l'utile direttevole. E non l'altro... E non l'altro... E non l'altro... E non l'altro... Sono preoccupato perché... Lei... Sicuramente sì. Se Crash Bandicoot 4... Vabbè non è che faccio uscire il video. Cioè comunque... Non è che solo tre ore... Forse forse tre ore sì. Però... Comunque... Diciamo... Uniamo l'utile direttevole. Quindi pensavo di registrare appunto dei gameplay. Visto che tanto ci giocherò, però prima magari mi alleno un po'. Poi faccio i gameplay. Sperò di Crash Bandicoot. Poi mi voglio comprare Tekken. Ovviamente. Tekken... Poi ci sarebbe un altro... Qual era quello che diceva a me amore con Pippo Pluto? Polino? Io non so il bravo con i nomi. Kingdom Mars 3. Kingdom Mars 3. Kingdom Mars 3. Kingdom Mars 3. Quello lì. Quello con... Qual era quello con le merci dove la vinceva il braccio dello zombie? Medivolo. Anche quello. E Resident Evil anche. E' giusto. Resident Evil deve mai mancare. Ho conosciuto stanno tanti i giochi che si comprano. O che mi regaleranno. Mamma fa ancora. Andarli a rubare è un po' difficile. Però... Io mi faccio passare alcuni di mio cugino. Cugino se ti guarda... Mandami qualche gioco. Mi posso scomodare i giochi. Ragazzi dovete capire che io da quando avevo la PS1 che non uso la Playstation. Ho avuto solo sempre quella che mi lasciano da MediAward. Quindi sono un po' indietro. Eh... Vabbè... Se col disco si possono prestare. E sono online? No. 3. Mi sento col suo account. Ah perché quello è ovvio. Perfetto. L'importante è quello. Quello? Si. Perché la mia cugina abita lontana. Quindi vedo la tua che mi lancia il disco. Comunque a parte ciò. Diciamo che voglio iniziare con Crash Bandico se riesco. Perché è quello che mi ispira di più il mio giochino a... Diciamo che il primissimo gioco è stato comunque... Quello con... 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 Tekken. Tekken 3. Il mio primo gioco. Le ore passate a scoprire come Yashimitsu riusciva a fare mosse strategiche eccetera. Poi avevo... Poi fino a Digimon avevo io. Con tanti ragazzi che avevo undici anni. E' stato il mio regalo per la mia prima comunione. Tutte le bambine chiedevano a mamma il vestitino. Mamma voglio la pambola. Mamma voglio la Playstation. Perché? Ma non ti piace una bella borsa. No voglio la Playstation. Poi? Non lo vuoi... Quanto? Non so... Qualcosa... No voglio la Playstation. Quando c'era la Playstation c'era ancora la lira. E costava quasi mille... No no... Forse c'era già l'euro. Non me ricordo. La Playstation è... Io me la sono ritrovata con due giochi. Con la lira. Con i due controller che all'epoca chiamavano Joystick. Ma nessun cornuto si è messo in mente come la Memory Card. Che una volta senza la Memory Card non serveva di un cazzo. Nessuno me l'aveva legata. Quindi era... Ogni volta era una tragedia quando saltava la corrente. O mio padre ci spegneva la play. O ci staccava la corrente. Perdevamo tutti... Perdevamo tutti i personaggi. Era più attente. Era più accord. Sì. Due anni per avere tutti i personaggi di Tekken. Beh adesso ci sono i giochi che non salvano eh. Sono brutti. Brutti e cattivi. Sono molto più di più. Beh ma Crash Bandicot c'è la scatolina che dice che è... Sì vabbè quello. Un po' toccolo è bello. Poi gli faccio provare il gioco più difficile al mondo. Ah. Vediamo un po' che cosa farà. Eh fu così che lo superai. Adesso riuscirò a platinare anche Crash. Mi sono fiduciosa. Sì fiduciosa. Sì sono molto fiduciosa. Scrivetelo per se siete fiduciosi. Se riesci a platinare... Sì sì. Ah Crash. Non ho mai platinato un gioco. Voglio platinarlo. Quello lì tuo che ho giocato che... Prima interditivo fa... Nanasa sanana... E' il blight. Senua sacrifice. Vedi solo il nome è inquietante. Il sacrificio di Senua. Già quello. No voglio giochi un po' più. Vabbè il blight della spada... Quello mi piacerebbe provare quello lì che hanno detto tutti del tipo che crei un film interattivo. Ah. Cosa era? Mi ricordo che Tony Solera mi rompeva a casa questo gioco. Eh... Detroit... Eh... Si era veramente lungo quel cazzo di titolo. Detroit Human Become Human Revolution. Ecco ecco. Ecco ecco. Human qualcosa. Quello lì. Ah... Provare. Anche perché poi voglio recensirli direi come la mia. Ah... Vuoi... Vuoi farti la tua storia. Sì. Vuoi vedere? No. Cioè voglio provare a vedere come sto gioco. Tanto. Ah è bello. Ah è bello. Dai voglio provare. Anche se non amo tanto i... I videogiochi dove parlano. Dove aveva tanta pazienza. Non so. Infatti che... Io quando parlavo di solito mandavo avanti le storie. Ecco. Il fatto è questo. Che lei non avendo pazienza. Questi giochi così. Non sono pronti per lei. Beh sono curiosa. Provo. Ma se ma se mi scoccio pazienza. Ho avuto accesso 80 euro di gioco. No adesso costa meno. Un betale meno comune di niente. Poi no. Ti giochi carini o vuoi provare tipo... Non ti farò giocare allora cyberpunk. Cosa? Cyberpunk è quello che dovrebbe uscire il 20 novembre il 19. Che è solo parlare, 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 parlare. No. C'è una sparatutto. Dove mi affronta adesso con gli elicotteri, con le macchine. Dove ammazza la gente. GTA. Sì lo so. C'è giocato con mio cugino. Con GTA. È quello che fai un cazzo per tutto il giorno. Esattamente. C'è anche un gioco molto bello che non mi ricordo assolutamente il nome. Che giocavo da piccola. Che non mi ricordo come si chiama però. Ok. E non mi ricordo amore. Vabbè. Rappresenta... Sparare. 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 Se non mi piace. Gli zombie. E non è Resident Evil. C'erano gli zombie. Sì. Nei giochi della Play 1. C'è. Non era la mia commentazione. Scrivetelo qua sotto i miei commenti perché... Era... Un gioco dove sparavi. Eh. Non so se erano degli zombie sinceramente la piccola. erano le persone che non avevano qualche problema. A quello sicuro. Mi piace di capelli comunque. No ma comunque... Mio cugino c'è un gioco dove deve denutare delle tipe. Combattere quindi... Bello quel gioco. Mi piace. Volevo comprarlo. Poi... Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non è che le spogli. Devi lottare con le tipe. Le tipe si spogliano. Puff. E spadiscano. Sono nude poi. Vabbè. Ovviamente non sono... Ci sono in versione... Bichini. Anime. Anime. Sì. Sono disussificato. Magari pensano veramente che ci sono le tipe nude. Vanno sempre messo le tipe a fumetto. Vabbè sono anime dai. Sì appunto. Ho solo il verso strano che fanno quando sembra che muoiono. Questo è che tante. Non è proprio così. Vabbè. Non lo imito. Vabbè. No. Quello anche che sono curiosa... Di provare... Che poi che gioco con te era Spider-Man. Però... Mi faceva pazzire. Anche perché sbaglio... Io non so seguire le mappe. Ah. No. Ho dei problemi. Soprattutto se si annoierebbe. perché parlano e ci sono filmati a tutto andare a lei allora piace crescio i giochi d'azione senza che parlano senza qualcosa sono parlati poi in crescio che parlavano poco è tipo un venuto dell'universo allora dove parlano poco è perfetto per lei dove si spara tanto è perfetto per lei dove si picchia è perfetto per lei quindi tutta la nicchia dei giochi dove parlano sono pochi diventano un po come portano quindi dei gameplay quando riuscirò a capire uno come portarli due come girarli avete già capito che cosa mi arriverà anche a me non so vedere poi nel suo video non uscirà tanto farà l'unboxing sicuro io ci farò l'unboxing usato ma comunque parte ciò per vedere poi dove metterò appunto la playstation tutto fare il room tour della stanza come ci ho permesso un altro video e poi cercherò di capire come si farò fai gameplay fargli vedere mettila accanto grazie poi e poi e poi vai su youtube cioè sulla play schiaccia il pulsante in mezzo sì ma io voglio far vedere sia il gioco sia messi a me si può fare non si deve mettere la telecamera metto il mio cellulare da vicino a tv voilà però devi montare metto me piccolina sopra che prendi con la chiavetta il gameplay e lo monto sto cazzo quello non regge montaggi vedete sarà il gioco me no c'è la cosa dei streaming sulla playstation su ci attacchi una telecamera sulla play ai buer cam si no allora si vabbè città portatile non posso e cammina web cammello preso non molto lontani e da uno stesso su un cazzo allora vedono il corpo da fastidio giocare in mutande tutti metti qua non metto la dove ti metti qua sono cieca allora è meglio metterti qui perché alcuni giochi non ci vedi proprio niente insomma sono cieca nel senso che devo avere una distanza giusta sono presbita comunque comunque sarà la ragazza che diventerà una gamer ma io non è che gioco con la tuta o cosa gioco mezza nuda i follower li faccio per come gioco per come gioco vestita non per come gioco diventerà la gamer protector no io sono utente woman whopper whopper c'è scritto nel tuo telefono controlla sicura ma che nemmeno super eroe io ho scritto Non me l'hai scritto Si E dopo quando uscivo la maschera Io questa mattina Devo andare a salvare il crimine Salvare il crimine, volevo combattere il crimine A salvarlo Ma te l'ho scritto Ma te l'ho scritto Non me l'hai scritto Non lo so, lo sei tu Vabbè C'è il caso translator Uguale Non dire la traduzione, devono scoprire la loro Traduttore Non ce l'hai, non ce l'hai letto tutta adesso No, non ce l'hai, non vuoi te l'hai Magari Ecco, bravo Ecco, scrivi Bravo C'è scritto Hot woman E se devi ripiglialo Hot woman Mi sconca per pronunciarlo Hot woman 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 Cercate la traduzione online Sennò proprio con la tua parola Della prima L'altra 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 Della pancola Inoltre L'altra C'è il cuore C'è il cuore Il cuore Alle lle Cercate un nome da supereroina che vada bene per me, che non sia Red Woman, vi prego, perché è una roba allucinante, nel Princess Woman. I tuoi vite sempre... Non è naturale tanto, amore, devono guardarsene con passione e ambizione. Certo. Tanto si guardano un cazzo, quindi poter parlare all'infinito e dire che tutti i grandi picciui pirla vanno in metto sempre dislike. Ah, tanto per le persone che tanto non guardano mai questo video fino alla fine, mettono solo dislike, grazie. Perché tanto ho scoperto che se mi mettete dislike mi fate salire il canale, quindi... Sì, però siete un po' cattivi che non guardate i miei video. Uffa, cattivelli. Non so, stanno guardando il mio, non guardate. Non male. Vi lascio sempre sotto se volete il suo video, voi andatelo a guardare, oppure ignoratelo come sempre. Come sempre. Oppure guardate il video e non commentate, non iscrivetevi al mio canale e ci vediamo in un prossimo video. Tant' alla fine. Psicologia inversa. Tant' alla fine. Ma vorrei capire perché odiate così tanto il mio canale ASMR, ho smesso di fare i video. Ma non c'è, non vuol dire che andate a disiscrivervi, perché da quando ho smesso di fare i video... Si sono disiscriviti. Sì, ero a 325... 319. Dove sono finiti? Non ho detto che smetto di fare i video per sempre. Che se vi riscrivete quando faccio i video. Quando se vi riscrivete quando vi farò i video, io li vado a fare in culo, chiunque voi siate. Allora, il video è fatto per essere visto. TUTTO. Tanto non so, guardano mai fino a qui. Lo so, però... Insomma, anche... Chi è dato a fine del video, metta hashtag io sono arrivato alla fine, con la canzone che canteremo, con la canzone che canteremo, con la canzone che canteremo. Tutto il succedeva fino alla fine. In fondo al mar. In fondo al mar. È quella della sirenetta? In fondo al mar. Tanto in fondo, io non me la ricordo. È quella che c'era... Sì, lo so. È quella del crostaceo. Non lo ricordo, ma non mi ricordo la canzone. Cioè, in fondo al mar. No, in fondo al mar. E poi... Allora, guardami, insomma, iniziavano. Oggi si puliava solo in fondo al mar, faceva la bella. Hashtag in fondo al mar. In fondo al mar. Non so, ma più come gli mandi a fare in culo con tanti, tanti diti. Al prossimo video, ragazzi. Tanto cazzo, c'è arrivato. Niente, ci vediamo però di nuove avventure. Bene, nuove avventure di questi due ragazzi. Dove siamo andati a 20 minuti, possiamo staccare. Alla prossima. Per quando non lasciate il like, non iscrivetevi al canale, tanto non lo fate mai. Ci vediamo in un prossimo video. Vi raccomando sempre, non cagate manco sui video, perché tanto si arrivano a diviso già tanto. Un mio video non ci serve per miracoli, dato 7.000. Capisco che non vi piacciono, però... Poi... Lasciatemi un po' di soddisfazione, mettete almeno un like. Almeno un mezzo commento. Io like te lo metto sempre. Ciao. Non passa nei miei video. Io passo. Un po' in ritardo, sì. Io sono sempre la prima. Io mi sveglio. Cattivo. Si, si sveglia già tardi. Io mi sveglio prima, li guardo il video, lui non si ricorda. La sera di solito. Che ci hai fatto? Ho visto pure il video per te, ho fatto. Io l'ho guardato. Quindi non l'ha fatto per me. Non so, non so, mi sono svegliato tardi con una di testa terribile, sentendo vernice nella mia mano quando mi sono pulito. Io ce l'ho guardato giorno nel braccialetto. Io lo sono. Noi vi salutiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Hashtag Sarea. Hashtag. Sarea sarebbe l'unione del mio nome col suo, per chi non lo sapesse perché me l'hanno chiesto. Mi schiava l'orecchio. Non è possibile. E c'è gente che non ci segue da 400.000 anni e mi ha chiesto cosa vuol dire l'hashtag Sarea sarebbe l'unione dei nostri nomi. E io ho perso qualche diottria con il ring. No, no, io ho perso proprio l'orecchio. L'avevo perso. Il diottria l'avevo già perse. Mi salutiamo e ci vediamo il prossimo video. Ciao. Invece, vediamo. C'è il momento foto.